Salve a tutti, grazie di essere venuti, io sono Arnaldo Casali, sono regista del film che state per vedere, La Stella di Greccio, è un piccolo film, è molto breve, dura 57 minuti, quindi è breve ma intenso, è il primo film sul presepe, sulla nascita del presepe a Greccio, è la prima commedia su Francesco D'Assisi, quindi vedrete un registro abbastanza insolito con cui si varia di Francesco, però tutto quello che vedrete comunque è fedelmente tratto dalle fonti francescane, in particolare poi c'è la di Dascalia all'inizio che lo spiega, questo film è tratto dai ricordi dei più fedeli e più intimi compagni di Francesco, i suoi migliori amici, Leone, Rufino e Angelo.